Positano martedì 24 novembre 2020 Il nostro quotidiano saluto alla Madonna è Positano tutti i giorni, ogni giorno questo è il punto del nostro cuore ecco la spiaggia di Fornillo meravigliosa spiaggia grande ecco l'Arienzo poi di spiaggia in spiaggia San Pietro sono due e mezza buon pomeriggio a tutti Pariano ha la bellissima Capitella poi dall'alto a Giorola stupenda fra le nuvole nocelle meravigliosa la nostra Montevertuso tranquilla, inattesa, sospesa è la chiesa nuova che è diciamo veramente il punto vitale di Positano i negozi la posta comune gli uffici centro nevralgico di Positano l'inverno è sicuramente la chiesa nuova poi giù scendiamo via Pasitea la scuola che fra una settimana rivedremo parzialmente aperta tranquilla la parafarmacia sempre aperta la spiaggia è la Madonna che ci sorveglia buon mercoledì a tutti la buona giornata